Seconda parte di Nero Suo Bianco, come detto adesso cambiamo scenario, cambiamo ospiti, parliamo di economia, ritroviamo con piacere Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena, bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Come il bentornato lo diamo al segretario generale, sempre della Camera di Commercio Giuseppe Salvini e poi salutiamo Francesco Simonetti, segretario generale del Polo Universitario Aretino. Benvenuti, allora faremo poi il punto sul quadro economico, ma non solo, parleremo anche del turismo che poi è strettamente legato, parleremo anche un po' di formazione e preparazione. Partiamo dal segretario generale che è sempre l'uomo dei numeri, preciso sempre a darci la fotografia l'avevamo fatta qualche mese fa, una puntata del genere, che cosa si può dire? Ma guardi, poco è cambiato rispetto a quando ci siamo incontrati qualche mese fa. Noi come Camera di Commercio siamo ufficio periferico dell'Istat e in questa veste proprio diamo questi numeri indicativi dell'andamento economico. Io però vorrei rappresentare un quadro un pochino più generale perché noi abbiamo la sensazione tante volte che l'economia aretina sia un qualcosa di diverso, forse a sé stante, rispetto a un quadro nazionale e a un quadro mondiale. Qui ci inseriamo in una dimensione più ampia. Io vorrei ricordare, guardate, per fare anche un esempio, che dal momento topico della crisi, e si parla del 2009 al 2018, nei dieci anni, anni, nei nove anni, dal 2009 al 2018, nel mondo il PIL è cresciuto del 37%. Prendiamo l'esame, l'esempio degli Stati Uniti, sono cresciuti quasi al 20% in questi ultimi nove anni, la Germania al 13%, la Spagna al 4%, l'Italia fa segnare un meno 3% in questo lasso temporale. Quindi c'è un problema vero, strutturale e profondo nel nostro Paese. Questo è una cosa indubitabile per chi è un po' appassionato di economia. Sono mancati gli investimenti, in Italia sono mancati il 20% degli investimenti dal 2009 al 2018, quindi è un'economia la nostra che si è retta solo sull'esport. L'esport è stato, come dire, in una situazione di rallentamento della domanda interna, degli investimenti, di grandi problemi strutturali del Paese, le infrastrutture, ripeto, un mercato del lavoro molto complesso, una macchina pubblica che non funziona come dovrebbe, quindi tanti problemi del Paese, sono mancati gli investimenti, solo la domanda internazionale ha retto. Questa domanda internazionale è importante per Arezzo, Arezzo fa l'80% del proprio valore aggiunto sui mercati del mondo, su 8 miliardi di valore aggiunto provinciale 6,5 li prendiamo sui mercati del mondo, quindi come per l'Italia, anche per Arezzo l'ancora di salvezza, la prospettiva che ha fatto crescere in questi anni il valore aggiunto sono stati i mercati del mondo, quindi come dire, bene venga il sostegno alle nostre piccole e medie imprese che affrontano questi mercati in un contesto sempre più complicato, quest'anno sarà un po', ci aspettiamo un rallentamento su alcuni mercati del mondo, la nostra fortuna è quella di avere come dire un'intensità di imprese molto superiore ad altre realtà, in provincia di Arezzo 45 mila imprese, un'impresa ogni dieci abitanti, delle eccellenze importanti come spesso diciamo sul made in Italy, oro e moda, prodotti conosciuti, riconosciuti come qualità, come brand, come stile di vita in tanti mercati del mondo, quindi la nostra speranza è questa, avere delle medie, piccole aziende conosciute nei mercati mondiali con prodotti tipici del made in Italy e poi raggiungeremo anche più tardi una grande potenzialità ancora forse poco espressa, molto inespressa che è il turismo, quindi abbiamo in un contesto italiano di rallentamento e di prospettiva non ancora un pochino rallentata anche a livello nazionale, comunque abbiamo delle carte da giocare come economia locale. E tra l'altro a proposito di made in Italy, la regione toscana in queste ore ha annunciato questa sorta di marchio toscana che adesso poi saranno, diciamo che si note prossimamente, quali saranno le modalità anche per le aziende che appunto fanno del made in Italy la propria eccellenza, insomma avere questo marchio di riconoscimento potrebbe essere interessante. Presidente, non so se vuole commentare queste dinamiche e anche, diceva il dottor Salvini, anche il discorso delle infrastrutture che è stato in passato e non sono in passato un rallentatore purtroppo, che cosa si può dire anche su quelli che possono essere gli scenari futuri? Non c'è dubbio che l'export, come diceva appunto il segretario generale, è il vero mattatore della nostra economia, quindi non possiamo assolutamente noi pensare a un contesto nel quale ovviamente la produttività, come nel nostro caso molto spesso le infrastrutture sono carenti, devono in qualche modo sopperire, in qualche modo avere difficoltà anche a esprimersi perché ci sono delle condizioni avverse e quindi dobbiamo anche pensare che poi la nostra possibilità di presentarsi sui mercati debba essere sempre più efficiente. Oggi questa scommessa che ovviamente dicevamo appunto passa dai mercati internazionali, dai mercati mondiali, passa sempre di più anche da un cambiamento, una modalità d'approccio delle aziende ai mercati. L'altro aspetto importantissimo che viene curato dalle camere, come sapete le camere sono l'ente pubblico a cui è stato demandato il compito anche della crescita digitale delle imprese, quindi sono impegnatissime a far sì che nuove modalità possano essere percorse con facilità dalle imprese e quello della digitalizzazione, cioè avere la possibilità di permettere alle imprese di essere sempre più presenti nei mercati, quindi l'e-commerce, ma non solo, la possibilità ovviamente di presentare cataloghi digitali, la possibilità di arrivare veramente in ogni parte del mondo con semplicità, come dicevo, e competenza anche attraverso la formazione di figure che all'interno dell'impresa possano garantire appunto questa finalità è oggi un nostro impegno assolutamente primario. Noi organizziamo tantissimi eventi, abbiamo attraverso il nostro punto di impresa digitale anche delle figure che affiancano le imprese nella loro scelta in questo senso e quindi ecco che cerchiamo in questo modo di far sì che oggi sappiamo che solo il 16% delle imprese, diciamo soprattutto quelle manifatturiere, ha questa attività nel digitale, quindi c'è un'autostrada davanti, quindi per arrivare ovviamente alla saturazione abbiamo un grandissimo potenziale da poter esprimere e da poter appunto in qualche modo coltivare attraverso la nostra attività, ma soprattutto anche l'impiego delle ovviamente nuove tecnologie, ma soprattutto anche di figure preparate che possano appunto inserire all'interno delle imprese, quelle piccole e medie soprattutto, appunto la potenzialità di un mercato che deve essere assolutamente garantito e ripeto, e che deve guardare assolutamente oltre i confini, quelli stretti della nostra provincia e della nostra realtà. E questo è un assist per le competenze che facciamo al dottor Francesco Simonetti, ecco su questo cosa possiamo dire proprio per diciamo poi fornire alle aziende quello che cerca? Sì, allora sono intanto già stati introdotti i due aspetti principali che un po' connotano l'economia a retina e soprattutto questi due aspetti che sono stati presentati, quelli dell'internazionalizzazione e quelli dell'innovazione, sono due direzioni che devono necessariamente intraprendere tutte le imprese, quindi sia le imprese grandi, strutturate, sia le imprese piccole che si devono in qualche modo organizzare. Da parte nostra, ora io sono un professionista della formazione, quindi mi compete anche analizzare queste cose perché poi le offerte formative devono essere anche in linea con quello che i territori richiamano, quindi internazionalizzare e quindi creare dei processi specifici. Sono le aziende stesse che ce lo chiedono. Noi oggi nel territorio a retino con l'unione delle due camere di commercio a Rezzo Siena abbiamo, se non sbaglio, correggetemi, circa 70 mila imprese operanti. Di tutte queste imprese molte esportano, anche micro imprese, realtà piccolissime che si affacciano sui mercati globali e queste ovviamente devono avere anche queste, la parte di assistenza e gli deve essere dedicati dei percorsi specifici. Sul fronte invece dell'innovazione, che accennava il Presidente con l'innovazione digitale, l'innovazione passa per la digitalizzazione. Oggi stiamo vivendo quella che gli economisti esperti chiamano la quarta rivoluzione industriale. E cos'è la quarta rivoluzione industriale? La prima era quella della meccanizzazione, la seconda quella della produzione di massa, la terza quella dell'avvento dell'informatica e dell'automazione industriale. Oggi la quarta rivoluzione è una sfida grossa, perché è una sfida che porta la digitalizzazione appunto ai massimi livelli, le macchine prendono quasi il sopravvento sull'uomo, le macchine riescono a decidere come decide l'uomo. Capite che in questo scenario le competenze che sono necessarie sono importanti. In questo il territorio è molto recettivo, quindi il nostro impegno sarà sempre quello di garantire profili professionali adeguati a quelli che le imprese richiedono. E dottor Salvini, anche l'altra volta dicevamo, non dico di questa resistenza, però queste percentuali ancora basse, che da una parte è una notizia positiva per il futuro, perché come diceva il Presidente c'è un'autostrada davanti, perché è un terreno che ancora non è stato percorso, però dall'altra, visto anche la concorrenza estra, dove su questo probabilmente sono magari più avanti, non c'è molto tempo da perdere. Quindi bisogna che queste imprese abbraccino rapidamente questa corsa al digitale. Esattamente, questo è un treno che va velocissimo. Noi dalle stime che abbiamo fatto sul territorio di Arezzo in particolare, sfioriamo solo il 10% di imprese che ha la consapevolezza dell'importanza del digitale. Noi proprio per questo motivo, come diceva il Presidente, stiamo facendo corsi, seminari, consulenza e assistenza mirata alle imprese. Io do solo un dato che a me piace, perché simbolicamente racchiude la potenzialità di questo fenomeno. Ognuno di noi, ogni cittadino italiano, mediamente sta 2,30 minuti ogni giorno su un tablet, su uno smartphone o davanti a un computer. Quindi anche la proiezione che ognuno di noi ha sul commercio online, sul turismo online, quindi è veramente un modo straordinario il digitale, il web, lo smartphone, per arrivare ad un'utenza infinita da parte delle nostre imprese. E questo ancora non vi è pienezza, anche solo su questo singolo aspetto, per esempio del commercio online, consapevolezza piena della straordinaria potenzialità. Ma anche qui ci possono essere anche nuove figure lavorative, no? Sì, ci sono in effetti nuove, poi sono in realtà figure professionali che ora sono abbastanza consolidate, quindi servono programmatori, servono tecnici che abbiano una preparazione di tipo ingegneristico per affrontare invece i temi legati all'hardware, alle reti, alle specializzazioni del web. Quindi sono tutte professionalità in cui, fra l'altro, Arezzo è ricco di imprese, specialmente nel settore ICT, che sono in realtà delle imprese molto avanzate, che operano su tutto il livello nazionale e che quindi non solo fanno fronte a quelle che sono le esigenze del mercato locale, ma anche spaziano in tutte le direzioni. Ecco, questo è un altro aspetto interessante dell'economia, perché sono settori in sviluppo, settori che però richiedono elevate, elevatissime specializzazioni, e settori però che danno grandi possibilità occupazionali anche in loco. Ecco, questo è un aspetto forse importante da segnalare. Perché poi insomma si parla, no Presidente, di lavoro, di... ci sarebbero anche in certi ambiti. Certo, occupazione è ovviamente poi alla fine il dato che più interessa. Sappiamo quanto, purtroppo, i dati che sono usciti anche in questi giorni legati alla disoccupazione sono quelli che più preoccupano la nostra economia, la nostra... la parte anche sociale, quindi della nostra comunità. Quindi è ovvio che tutto il cambiamento che riusciamo a intercettare, ma ripeto che da una parte è l'economia anche che ci impone di dover intercettare, modalità nuove di approccio, di abitudini anche, e noi dobbiamo essere in grado di aiutare o accompagnare, diciamo, a ragionare con questa nuova impostazione che ci viene chiesta e che ormai è ineludibile. Quindi per quanto ci riguarda, come dicevo, l'impegno in questo caso è massimo, in questo momento lo facciamo, lo facciamo anche all'interno del polo, che ovviamente ci ricordava adesso Simonetti, perché riteniamo che ovviamente da soli siamo in grado, sì, di improntare un ragionamento, ma poi ci vogliono anche le figure e gli strumenti, i luoghi, dove questo possa essere effettivamente perseguito e possa essere assolutamente percepito anche dalle imprese, cioè utilizzato poi dalle imprese in un modo assolutamente pratico. Cosa dire? L'altro aspetto importantissimo è legato, come dicevamo prima, alla potenzialità di un territorio che comprende che queste potenzialità si colgono laddove ci sia una concomitanza di fattori che permettano effettivamente di coglierle. Comincio a pensare, voglio dire, alle infrastrutture, pensiamo, voglio dire, alla nostra problematica stradale, ad esempio, che abbiamo con una Due Mari che non viene ancora completata, purtroppo ormai da decenni, le difficoltà semplicissime anche di collegamento tra Arezzo e Siena, due territori che sono fusi anche per la Camera di Commercio, ma che ovviamente vivono compenetrandosi, l'università, quindi le opportunità di formazione, che non possono essere così ostacolate da una difficoltà nella fruizione giornaliera appunto della quotidianità tra due territori. Quindi è fondamentale che queste opere vengano terminate, come vengano ripristinate, come le 75 e le 45, per quanto riguarda una viabilità che è ancora penalizzata, fortemente penalizzata, immaginiamo appunto le nostre imprese, ma non solo, le famiglie, la comunità tutta che soffre di questa cesura che c'è tra il nord e il sud. Quindi abbiamo fortissimamente bisogno che insieme a queste intercettazioni di novità di cui abbiamo parlato finora, si comprenda anche quanto sia fondamentale poter permettere ed avere delle forze banali, ma condizioni di base che poi siano assolutamente garantite. Torniamo tra poco. Ultima parte di Nero su bianco, adesso parliamo di turismo, che è un altro aspetto fondamentale poi qui della questione economica, anche non solo poi di quelli che sono gli afflussi, tutto l'indotto che riesce a creare, ci sono dati incoraggianti, in particolare per la città di Arezzo, ma per tutta la provincia, andiamo a vedere proprio gli ultimi dati che sono stati resi noti. Arrivi cresciuti dell'11,2%, presenze del 13,4% sono i dati del turismo in provincia di Arezzo, dati provvisori forniti dall'Istat pubblicati nella Banca Dati Turismo della regione toscana, confermano in pieno le impressioni positive emerse nel corso dell'anno proprio per il turismo aretino. Gli arrivi si sono infatti attestati a circa 573.000 unità, mentre le presenze hanno superato abbondantemente un milione e mezzo di pernottamenti. Sono soprattutto le strutture extraalberghiere a consolidare il trend positivo, cresciuti sensibilmente sia il numero di turisti che quello dei pernottamenti, più 24,6%, vanno bene gli agriturismi, più 11%, ma ancora meglio fanno le altre tipologie, più 36% gli arrivi, 34,3% le presenze. Le strutture alberghiere mostrano invece un andamento meno entusiasmante, sono aumentati nel 6% i turisti soggiornanti, ma rimangono sostanzialmente invariati i pernottamenti. Le strutture di livello più elevato, 4-5 stelle, hanno ottenuto i risultati migliori, mentre quelle di livello inferiore, pur con un numero maggiore di turisti, hanno subito una diminuzione del numero dei pernottamenti. La provincia di Arezzo, dice il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini, con la crescita degli arrivi superiore all'11% e quella delle presenze che supera il 13%, risulta una delle più dinamiche della Toscana. Arezzo insieme a Firenze è l'unica provincia a presentare un allungamento della durata media del soggiorno che passa da 2,7 giorni del 2017 ai 2,8 del 2018. I flussi più importanti in termini assoluti si sono avuti come prevedibile nei mesi estivi, ma in termini relativi gli incrementi percentuali di maggior rilievo sono stati messi a segno nella fase iniziale della stagione estiva, soprattutto a maggio, e nella parte finale dell'anno, novembre e dicembre. Il numero di turisti è cresciuto grazie al contributo fornito in ugual misura dagli italiani e dagli stranieri. Fra gli stranieri i principali partner sono la Germania, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Allora, segretario, come possiamo ultimamente commentare questi dati? Questi dati confermano quello che diciamo da tempo, cioè che il turismo è un integratore di sviluppo straordinario per l'economia come la nostra, come dicevamo prima, proiettato sui mercati internazionali, ma basata su un territorio straordinario, un territorio ricco di cultura, di arte, di paesaggio, di emozioni per chi viene nella nostra terra. Il turista che viene nella nostra terra ha la possibilità di fare shopping, di essere vicino a tante ulteriori città d'arte, veramente di fare in massimo relax una vacanza straordinaria. E questo, piano piano, i turisti cominciano a capirlo. Allunga, si allunga la permanenza media sul territorio. Siamo l'unica provincia che fa registrare un allungamento della presenza media del soggiorno da 2,7 a 2,8 giorni, poco, ma aumenta. Aumentano in maniera robusta le presenze rispetto all'anno scorso. Quindi Arezzo comincia a essere apprezzata. Nei dati complessivi, fra un altro, la parte del Leone la fa proprio la città di Arezzo, che cresce con un roboante più 23% rispetto allo scorso anno. Quindi sono dati che fanno molto riflettere. Ovviamente siamo ancora in termini assoluti lontani da tante città d'arte, ma come crescita siamo avanti. Io vorrei fare anche un'altra considerazione. Oggi il turista in Italia, il turista straniero spende in Italia ogni anno quasi 37 miliardi di euro. Il PIL italiano è fatto per il 10% dal turismo. Ecco, dobbiamo cominciare a ragionare che ogni turista che viene sul territorio porta ricchezza diffusa. Non si ferma sulla struttura alberghiera, non si ferma la ricchezza sull'agriturismo, ma si espande su un territorio, dal cartolaio all'esercente, al negozio di vini. Ecco, il turismo è veramente un fenomeno che si intreccia con l'eccellenza di un territorio, dal vino all'olio ai ristoranti. Quindi è veramente un fenomeno diffuso. Il dato ci va ben sperare. Su questo noi come Camera di Commercio ancora stiamo spingendo molto. Il turismo è una delle priorità che la nuova legge ci ha dato in collaborazione con gli enti del territorio. Siamo presenti su tante iniziative importanti, dalla fiera antiquaria alla fiera dell'artigianato di Anghiari, alla fiera del mobile di corso, ha tante, io non le posso ricordare, tante iniziative sui territori che comunque fanno eco, fanno effetto mediatico, curiosità, interesse e portano il turista e portano infine ricchezza. Quindi questa è veramente una pista di lavoro su cui si può lavorare. E da lì, ecco, ripeto, formazione stiamo facendo molto anche per i nostri operatori del turismo per stimolare una migliore, sempre migliore cultura dell'accoglienza, come dicevamo prima, anche una formazione su nuove modalità per agganciare il turista, anche sul digitale, quindi come promuovere il proprio sito online, come rendere appetibile la propria offerta turistica. Quindi, convinti di questo straordinario fenomeno, ecco, come Camera di Commercio siamo veramente molto impegnati e a 360 gradi su questo filone. Presidente, questi dati possono essere letti, perché comunque c'è stato, vedi, per la città di Arezzo nel periodo di Natale, ma non solo, ovviamente in città, cioè si è investito molto anche sugli eventi, su inserire Arezzo in determinati circuiti, può essere a comprimo ritorno di tutto questo lavoro che è stato fatto? Ma, dubbiamente il turista ha bisogno delle attrazioni per comunque avvicinarsi al nostro territorio. È vero che la principale motivazione è quella della bellezza del nostro territorio, dell'arte, della grandissima tradizione, anche enogastronomica, quindi non solo quella che riguarda un'accoglienza, diciamo, a 360 gradi, ma ha ovviamente delle potenzialità. Ma sicuramente dobbiamo pensare, e come abbiamo fatto, dovremo continuare a farlo, a degli eventi di attrazione, dalle mostre, dalle grandi mostre d'arte, dalle grandi eventi anche di tipo culturale, e anche quelli forse più leggeri, che legano di più alla vita più quotidiana, quindi che siano anche mercati o comunque situazioni anche di attrazione dal divertimento. Quindi abbiamo sicuramente anche il compito di tenere vivo questa modalità perché possa essere comunicata al turista, al potenziale turista, perché tutto questo fa vivere il nostro territorio e fa soprattutto cercare di far permanere il visitatore, il turista, nella nostra realtà. E anche qui, diceva, qualche competenza di un certo tipo è utile. La competenza in più ci vuole, quindi anche noi dovremo cominciare a tenerne conto. Ma soprattutto, secondo me, bisogna tenere in considerazione il fatto che il turismo è l'industria. Quindi tutte le iniziative che vengono fatte dovrebbero possibilmente essere messe a sistema, essere organizzate. E quindi sistematizzare anche le iniziative sul turismo potrebbe essere auspicabile in quanto sicuramente riuscirebbe a creare azioni più efficaci a livello promozionale. E sul fronte specifico, gli operatori turistici ad Arezzo, ce ne sono tanti operatori turistici molto preparati. Devo dire che sul fronte della formazione però il turismo è un po' langue, la formazione in questo senso. Però ci stiamo organizzando. Ecco, quindi anche presto anche questo settore vedrà i suoi percorsi di formazione dedicati. Bene, io vi ringrazio di averci dato, insomma, questo ulteriore spaccato. Ci rivedremo sicuramente più avanti. Sono belli questi incontri perché ci permettono, insomma, di capire il vostro impegno e anche come si muove, come risponde la nostra provincia, su quali fronti magari conviene investire e anche ottenere più competenze. Grazie davvero per il vostro lavoro. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Grazie. Grazie.